Grazie a tutti, grazie a tutti, si ripete domani, oggi pomeriggio, oggi pomeriggio, oggi pomeriggio e domani. Signori, questi signori l'hanno fatto anche ieri con l'acqua e quel signore con la moto ha fatto le stesse cose quando qui era tutto allagato d'acqua, quindi meritano un grande applauso, grazie alla vostra attenzione. Ragazzi un applauso, fate un inchino. Grazie a tutti, grazie a tutti.